Qui sta messo di lato, allora ragazzi, qua è un po' più complicato di quello che pensavo allora, questo è giusto e deve stare uno nero là, è stato, vediamo qua, no, questo è più difficile, vediamo il primo, numero 1. Allora, deve stare al terzo colosio non pianto, lo facciamo con le colosi curvale, 1, 2, 3, 4, 5, al quinto colosio deve stare con 1, 2, 3, 4, 5. Si, lì canta di che colore è? non riesco a capire se è nero o è bianco ma è bianco il problema sì, bianco andiamo avanti qua deve stare uno nero, uno, due, tre, quattro, dieci sta qua invece l'ultimo allora, deve stare un vampiro a te, un terzo pulso un terzo pulso come fa stare un vampiro? fa stare un vampiro là e a cinque a cinque a cinque a cinque ah, ecco, ecco cos'è che va là? aspetta, aspetta, aspetta cos'è che va là? va un licanto ah, lo qua va un licanto il vampiro c'è l'ombre aspetta, aspettate, aspettate ragazzi aspetta allora al centro però c'è no, no, un, due, tre questa qua ok, 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 ok quasi finito quasi finito, dai e poi uno bianco che deve stare un po' di là a tre bianco bianco e ricomporiamo il pazzo allora qui era ah, ah per cui deve stare uno bianco quattro o due su un po' di là così sarà aspetta, aspetta fammi vedere tre, due, su un po' di là bisogna scambiare questo no, sbagliato qua, qua qua oh enigma risolve non era facile ragazzi per niente è proprio e finisce questo livello ragazzi avete visto com'era dura la capire infatti l'aglio di prank senza cosa non è andare a fare in cule e va bene e quindi ciao ragazzi grazie